Ritorno alla normalità anche per l'Università della Calabria. Lezioni, esami e sedute di laurea si svolgeranno in presenza e tutti i luoghi del campus potranno essere utilizzati al 100% della propria capienza. Gli esami e le sedute di laurea infatti si svolgeranno in presenza, tranne nei casi di positività al coronavirus. Gli studenti che risulteranno positivi potranno richiedere la modalità di esame a distanza, attivando un ticket online. La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, va inoltrata di norma almeno 48 ore prima dell'esame. Sarà comunque obbligatorio l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e assembrati. Una decisione questa che l'unica l'ha confermato nell'autonomia concessa alle università a seguito di circolare trasmessa dal Ministero della Funzione Pubblica. Inoltre, per quanto non sarà più necessaria la prenotazione del proprio posto in aula, continua ad essere richiesta l'azione di check-in e check-out alle entrate ed uscita delle aule, tramite l'applicazione Smart Campus. Precauzioni queste necessarie al contenimento dei contagi, in vista soprattutto delle stagioni più fredde.